Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per ricostruire insieme a voi un caso italiano. So che parecchi di voi li apprezzano molto, ma soprattutto sono qui per raccontarvi una storia che inspiegabilmente non è così conosciuta. A mio avviso dovrebbe esserlo, questo caso a me ha davvero incuriosito tantissimo, soprattutto per il protagonista, Gaspare Zinnanti. La storia di Gaspare Zinnanti è quella di un uomo comune che ad un certo punto della sua esistenza, d'improvviso, viene in un certo senso preso da forze superiori che alterano il corso degli eventi in maniera coercitiva e preordinata, esercitando su di lui un controllo assoluto. Ma come al solito, andiamo con ordine. È il 12 marzo del 1997, sono le 9.30 del mattino e la metropolitana di Milano, linea 3, stazione Sondrio, è affollata. È la fermata che precede quella della stazione centrale. I treni passano velocemente, si fermano un attimo e ripartono. E c'è davvero tantissima gente alla stazione a quell'ora. Una folla ordinata al di qua della linea gialla che corre lungo il bordo del marciapiede. Sono presenti donne, uomini, anziani, bambini, tutti in fila, uno accanto all'altro. Fra la gente in attesa c'è anche Genoveffa, ha 40 anni ed è una donna come tante altre e sta aspettando il treno per raggiungere Marcello, suo marito, con cui ha un appuntamento in centro. Insomma, niente di anomalo, no? Niente di pericoloso? E invece no, la signora Genoveffa ancora non lo sa, ma in quel momento sta rischiando la vita. Chiaramente non dovrebbe essere così. È in una frenetica ma normale stazione della metropolitana di una città come Milano. Si trova a distanza di sicurezza dal passaggio del treno, dietro la riga gialla. Sono le 9.30 del mattino e in mezzo ad un sacco di altra gente. Cioè nonostante, come già detto, la signora Genoveffa è davvero in pericolo. Infatti quella mattina dietro di lei c'è un uomo. Quell'uomo è sulla trentina, indossa un paio di scarpe da ginnastica bianche, jeans chiari e un giubbotto di pelle scura. La signora Genoveffa non lo sa, ma quell'uomo avverte che gli sta mancando l'aria, non riesce a respirare ed è convinto di morire. Ed è per questo motivo che fa un passo avanti. Si fa largo tra la folla e si avvicina alla signora. Poi aspetta. Aspetta che arrivi il treno. Poi fa un altro passo avanti, appoggia la mano sulla schiena della signora Genoveffa e la spinge giù dalla banchina. Il macchinista vede quella donna che cade sui binari e comincia a frenare. Ci riesce quasi a fermarsi. Dico quasi perché ahimè alla fine investe la signora Genoveffa e la lancia lontano procurandole un trauma cranico con lacerazione cerebrale. La signora Genoveffa però non muore. Inizialmente non riesce a parlare, ma è cosciente e si ricorda tutto. Quando è in grado di farlo racconta che cosa le è successo. Genoveffa non è caduta da quel marciapiede né ha perso l'equilibrio. Non è stato un incidente quello. Lei l'ha sentita la mano di qualcuno che l'ha spinta da dietro. L'ha avvertita chiaramente. Inoltre non è neanche l'unica a sostenerlo. Ci sono molti testimoni che hanno visto un uomo muoversi in modo sospetto alle sue spalle e poi scappare. Quest'uomo viene descritto così. tra i 25 e i 30 anni, alto 1,75 m, di corporatura media, con i capelli castano chiaro e la barbetta. La polizia ovviamente lo cerca, ha fatto un'identichitta abbastanza preciso che va in onda anche su chi l'ha visto, qualche giorno dopo. Questo mi fa pensare immediatamente ad una cosa piuttosto triste. Nessuno ha provato a fermarlo o a inseguirlo. Hanno tutti guardato passivamente imbambolati quella scena tremenda. Un risvolto positivo però c'è. Queste persone hanno una buona memoria, o meglio, hanno avuto modo di osservarlo bene visto che l'identichitta è così preciso. È molto amareggiante quest'aspetto della storia, secondo me. Ma procediamo senza sviare troppo. Tutti, ovviamente, in testa hanno un'unica, enorme domanda senza risposta. Perché? Perché è avvenuto quell'attentato alla stazione Sondrio della linea 3 della metropolitana di Milano? Perché quel 12 marzo, a quell'ora di punta, ma soprattutto perché la signora Genoveffa? Ebbene, la signora Genoveffa non può saperlo ancora, ma era la vittima prescelta di un assassino. E questo assassino ha un nome, un cognome eppure un soprannome con cui è balzato agli onori della cronaca. Il seriale della metropolitana di Milano o Il Purificatore di Milano, Gaspare Zinnanti. Ma quindi, chi è Gaspare? Qual è stata la sua vita? È nato a Palermo nel 1962 ed è figlio unico, ma la vita non è stata affatto generosa con lui. Perde il padre quando è ancora molto piccolo, in un incidente stradale. E i rapporti che ha con sua madre sono piuttosto freddi, tanto che, dopo la morte del marito, lei lo porta in collegio. Più precisamente nel collegio dei padri somaschi, dove Gaspare rimane fino ai suoi 14 anni. Quando esce dal collegio, Gaspare si ritrova immerso in un mondo nuovo. È il 1976 e quelli sono anni particolari, specialmente per un ragazzino. Inoltre Gaspare è arrabbiato. Tanto arrabbiato. Si sente un po' disorientato, ha vissuto la perdita del padre come un abbandono, nonostante sia morto e non se ne sia andato. Ma per un bambino, processare un evento del genere non è affatto facile. Inoltre, Gaspare è consapevole di avere una madre che di lui se ne frega altamente. Tanto che, quando esce dal collegio, a stento se ne rende conto. In generale, lei bada davvero poco al ragazzino. Lo considera ormai cresciuto. Pensa che al collegio abbia ricevuto la giusta disciplina per stare al mondo e camminare con le sue gambe. A questo punto, come già vi ho detto, poco fa Gaspare si ritrova in una società che non conosce. Non sa come collocarsi e quindi si ritrova a frequentare quella che chiameremmo brutta gente. Ragazzi difficili, persone che lo portano sulla cattiva strada. Nel periodo adolescenziale, Gaspare fa uso di alcune sostanze e commette diversi reati, come piccoli furti. Fino a quando non gli arriva la cartolina del servizio militare. Inaspettatamente, quelli per lui sono anni felici, prima di tutto perché smette di utilizzare quelle sostanze e di commettere furti. Ed è già un passo avanti. Ma soprattutto perché riesce ad inserersi bene con i compagni e anche a rispettare la disciplina. Sembra quasi che la vita militare gli faccia bene e che in un certo senso lo abbia indotto a darsi una regolata. Finito l'anno di leva, Gaspare sembra un uomo nuovo. Non si comporta più come prima. È decisamente più maturo. Sicuramente quell'anno da militare le ha in un certo senso raddrizzato. Dunque si sposta a Torino, dove si sposa con una ragazza che fa la dattilografa. Anche Gaspare trova lavoro e non si tira di certo indietro quando è il momento di darsi da fare per vivere. Lavora prima in un supermercato e poi come muratore, ma purtroppo perde il posto ogni volta perché non riesce ad andare d'accordo né con i suoi superiori né con i suoi colleghi. Insomma, finisce sempre per litigarci pesantemente. A differenza dell'ambiente militare che invece gli aveva fornito una certa disciplina. Ahimè, col tempo Gaspare quella disciplina sembra perderla e la rabbia torna a montargli dentro. Infatti un giorno durante una discussione con un suo collega si infuria a morte. Il collega è lì che gli urla in faccia mentre Gaspare si arrabbia sempre di più ogni secondo che passa fino a quando quella furia non diventa voglia di ammazzarlo, di prendergli la testa e sbattergliela contro il muro fino a fracassarla. Ma, per ora, è solo un pensiero, un istinto che riesce a sopprimere. È chiaro che Gaspare non stia bene, tenda anche il suicidio e resta per un mese sotto osservazione psichiatrica. Quando torna a casa è sempre più arrabbiato e questa furia sembra montargli dentro sempre di più, giorno dopo giorno, tanto che arriva a litigare molto spesso anche con sua moglie. I due non hanno ancora messo al mondo dei pargoli, quindi la donna ben presto chiede il divorzio e Gaspare è d'accordo con lei perché si rende conto di quanto sia difficile stare con lui. È incredibile questo personaggio, davvero mi ha tanto, tanto incuriosita. Quindi, in un certo senso, ritroviamo un Gaspare consapevole dei propri problemi, sa benissimo di avere scattidira, di prendersela in continuazione con sua moglie senza dei validi motivi di fondo. Però, a questo punto, succede qualcosa, perché dopo il divorzio l'uomo passa un periodo molto triste. che non si sarebbe mai aspettato di vivere. Forse Gaspare ha dato per scontata la presenza di sua moglie, ha sottovalutato che stava vivendo una vita tutto sommato appagante. Ma c'è un'altra cosa importante che devo dirvi di Gaspare. Non è eterosessuale, bensì bisessuale, quindi ha sempre tradito la moglie sia con donne che con uomini. E, forse, è proprio per questo motivo che dava il loro rapporto così per scontato. Aveva altri rapporti intimi, con altre persone. Non è chiaro se sua moglie lo sapesse, facesse finta di niente o se non ne fosse al corrente. Non ho trovato alcuna fonte su questo particolare. Gaspare, quindi, in questo momento è rimasto da solo a Torino. E la profonda tristezza che prova diventa depressione. Quindi decide di lasciare la città per andare a vivere da sua madre a Magenta, in provincia di Milano. E io ci sono nata a Magenta. Comunque, il problema è che anche con la madre la situazione diventa a dir poco drammatica. La donna, per lui, non c'è mai stata. E Gaspare, questo aspetto della sua vita lo ricorda bene. Serva parecchio rancore verso di lei. Infatti, ci litiga in continuazione. Ci litiga così tanto che alla fine preferisce andarsene di casa e trasferirsi a Milano, dove però non ha una fissa dimora. Quindi, piuttosto che stare con sua madre, che almeno un tetto sulla testa ce l'aveva, Gaspare preferisce diventare un clochard, perché a Milano, chiaramente, non conosce nessuno. Lui, al massimo, aveva conoscenze a Torino e anche tutte le sue relazioni extraconiugali le aveva lì. Quando lascia la città è come se chiudesse un capitolo della sua vita. Un taglionetto col passato, magari per tentare una riappacificazione con quella madre, sempre assente ma a cui, in fondo, vuole bene? È possibile, ma, ahimè, Gaspare non riesce a costruire un buon rapporto con sua madre. Lui è troppo arrabbiato, lei forse è troppo menefreghista per interessarsi a lui. Del resto, non l'aveva mai fatto. A Milano, Gaspare, come già vi ho detto precedentemente, non ha una casa. In poco tempo, però, fortunatamente, qualche amico lo trova. Quindi, a volte dorme a casa di amici, altre volte dorme direttamente in stazione centrale o sulle panchine. Ma, soprattutto, rincomincia con l'uso di certe sostanze. Fuma, e non intendo sigarette, usa una sostanza molto pesante e anche il roipnol, che è una benzodiazepina ad azione ipnotica. In pratica, il roipnol è un trattamento che solitamente viene prescritto a breve termine per combattere l'insonnia. Le benzodiazepine abitualmente sono indicate quando il disturbo è parecchio grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. C'è però da dire che è una di quelle persone che fa uso di sostanze, ma riesce a mantenersi sempre sul limite. Riesce, cioè, a non cadere nella dipendenza. Quindi, per ora, non è costretto ad assumerle regolarmente. A questo punto della ricostruzione, Gaspare ha 35 anni. Ovviamente, con la vita che conduce, non possiamo immaginare un Gaspare che si reca al lavoro tutti i giorni. Infatti, l'uomo vive di espedienti. Ruba macchine, scippa le borse alle signore, ma soprattutto fa rapine nei negozi con pistole di plastica. Inoltre, fa il passeggiatore, lo gigolò. Insomma, Gaspare si prostituisce sia con donne che con uomini. C'è da sottolineare che, in realtà, nonostante Gaspare viva per strada, non si trascura, mantiene una certa condotta comportamentale. È un bel ragazzo, sa come muoversi, sa come parlare con la gente, sa come guadagnarsi la fiducia altrui. E, tutto sommato, ha anche un'area distinta, fabile e gentile. Inoltre, spende soldi per comprare abiti più che dignitosi. In pratica, chi aveva a che fare con lui non poteva immaginare di conversare con un uomo che dormiva per strada. Così Gaspare, mentre lavora, conosce una donna benestante, ex insegnante divorziata e più grande di lui, ossia Francesca Coelli. Francesca è una donna di 52 anni ed è molto libera. Ormai è divorziata e vuole godersi la vita. Ha parecchie avventure e non lo nasconde affatto, anche se le donne che la conoscono quando la vedono per strada iniziano a bisbigliare tra loro, sicuramente per spettegolare. Ma soprattutto Francesca ha un'altra passione. Le piacciono le riviste e i video piccanti ed è chiaro che la relazione con Gaspare è soprattutto intima. A Gaspare, a dirla tutta, Francesca neanche piace molto, stando a quanto dice. La definisce bruttina, ma lui va bene lo stesso. Stanno insieme per un paio d'anni, poi però Gaspare, tra un furto e l'altro, tra uno scippo e l'altro, viene arrestato e recluso per un paio d'anni in carcere. Quindi i due si allontanano, ma Gaspare, quando esce dal carcere, torna proprio da lei che lo ospita nella sua casa in via Banvitelli, nel cuore del quartiere Città Studi di Milano. Ma arriviamo ad un giorno in particolare, il giorno in cui Gaspare Zinnanti perde il senno, in un certo senso. Fino a questo momento non ha dato segni di follia estrema, certo, qualche problema quest'uomo ce l'ha, e come? Ha una rabbia che cerca di soffocare con le sostanze, entra ed esce spesso dal carcere, non conduce una vita pulita, ecco, diciamo così. Ma il 10 marzo del 1997 tutto cambia. Cosa accade esattamente? Ebbene, Gaspare e Francesca sono a pranzo assieme a casa della donna, come tutti i giorni d'altronde. Non hanno un rapporto così confidenziale come potrebbe apparire, dato che lei l'ha accolto in casa. In realtà, a Gaspare i soldi piacciono parecchio, e a Francesca piace parecchio la compagnia di Gaspare. Per di più i soldi non le mancano, quindi può compensarlo lautamente per la sua compagnia e i suoi servizi. I due mangiano parlando del più e del meno, la televisione è accesa, ogni tanto entrambi prestano attenzione a ciò che trasmettono in tv, per poi tornare ai loro pensieri. Però Francesca quel giorno dice una frase, una frase che fa scattare in qualche modo, Gaspare. Francesca pronuncia esattamente queste parole. Tu sai cosa devi fare. Ovviamente noi non sappiamo cosa intenda Francesca, ma Gaspare capisce una cosa ben precisa. Ci pensa tanto a quella cosa precisa, Gaspare. Si danna per un giorno e mezzo, perché lui, in realtà, quella cosa lì non la vorrebbe fare. Ma poi si decide. Il pomeriggio dell'11 marzo, verso le 18, Francesca gira per casa con un pareo senza neanche curarsi troppo di lui. E fa male, perché Gaspare la insegue in silenzio per tutta casa. Stringe in mano un martello che ha preso dalla cassetta degli attrezzi disposta sotto il lavandino. Francesca probabilmente avverte anche la sua presenza di tanto in tanto, ma non ci dà molto peso. Fino a quando, ad un certo punto, si ferma di colpo. E Gaspare capisce che è il momento giusto. O lo faccio ora o mai più, si dice. Quindi solleva il martello e colpisce Francesca sfondando nel cranio. La donna muore sul colpo. Gaspare si siede vicino al suo cadavere e scoppia a piangere come un bambino. Per ore. Poi, improvvisamente, si riprende. In qualche modo torna lucido, si chiede perché sia stato per ore a piangere. Lui ha fatto la scelta giusta e, d'altronde, era stata Francesca con quella frase «Tu sai cosa devi fare» a farglielo capire. Lei gli ha permesso di assorbire questa consapevolezza. A questo punto si lava e si cambia, mette i vestiti sporchi di sangue in un sacchetto che butta nella spazzatura assieme al martello insanguinato. Prende 35.000 lire dalla borsa di Francesca ed esce chiudendo la porta con le chiavi. Si dirige in stazione centrale e prende un treno per Roma. Gaspare sogna di vivere lì, di spostarsi a Roma, lasciarsi tutto alle spalle, dimenticare ciò che ha fatto, cambiare ambiente, forse anche cambiare vita. Ma poi si rende conto di una cosa. Non può proprio farlo. Deve tornare a Milano perché c'è una cosa che deve fare. C'è un altro lavoro che deve compiere. Intanto passano dieci giorni e la polizia trova il corpo di Francesca. Mi ha lasciata stranita il tempo che hanno impiegato a trovare il suo corpo, visto come viene descritta Francesca. In teoria, gli amici ne aveva e tanti, ma forse non erano così stretti da rendersi conto che Francesca era sparita da dieci giorni. È in ginocchio, piegata in avanti, con la testa fracassata. Ed è così che il capo della questura di Milano, Luca Carluccio, e il sostituto procuratore di turno, Luca Cairati, si ritrovano per le mani un vero e proprio giallo. La porta dell'appartamento è regolarmente chiusa, a chiave. L'arma del delitto è nella spazzatura sotto casa. Certo, ci sono delle impronte sul manico di quel martello, ma a chi appartengono? Chi frequentava Francesca prima di essere uccisa? Così la polizia inizia ad indagare, anche se noi la verità di questo giallo la sappiamo già. Ma che cosa intendeva Gaspare quando a Roma pensava al lavoro che doveva compiere a Milano? Ora è il turno di un altro suo amante, un uomo di 58 anni di nome Alvaro Calvi. Alvaro era un marinaio, poi ha fatto il portavalori e adesso è in pensione. È omosessuale Alvaro e da tempo ha una relazione con un giovane dei modi carini e gentili. Quel giovane si chiama Gaspare e i due si conoscono da quando aveva 14 anni. Per inciso Gaspare a Roma ci sta appena 24 ore, poi torna a Milano e va da Alvaro. Prima però qualcosa lo spinge a prendere la metropolitana e, senza neanche rendersene troppo conto, si ritrova alla linea 3, stazione Sondrio. Ed è qui che la storia si ricollega all'inizio del video. La signora Genoveffa. Gaspare la vede e si sente letteralmente mancare il fiato. Sente che deve fare qualcosa, quindi la fa precipitare sui binari. Questo però è solo un piccolo intermezzo perché Gaspare sa che ciò che deve fare lo deve fare ad Alvaro. I due, tra l'altro, non si vedono da un po', da quando è uscito di galera l'ultima volta non ha più avuto contatti con lui. Ma alla fine poco importa, Gaspare gli piomba in casa, così senza neanche avvisarlo. Alvaro, tutto sommato, è contento di vederlo, Gaspare gli è sempre piaciuto. Così gli permette di stare da lui nel suo monolocale di Viale Monza. I due restano assieme parecchi giorni, hanno numerosi rapporti intimi. Nel frattempo però il cervello di Gaspare frulla. Ci pensa per tutti quei giorni alla sua missione. Anche quando guardano la televisione e al giornale parlano di quello strano incidente avvenuto in metropolitana. Poi dicono anche che è stato trovato il cadavere di Francesca. Vede il suo identikit a chi l'ha visto. A questo punto scopre che la signora Genoveffa è sopravvissuta. Lo hanno visto abbastanza chiaramente per fare un identikit. In pratica l'hanno quasi beccato, quindi viene colto da una smania. A poco tempo. Ecco perché deve agire. Gaspare non pensa a niente se non alla sua missione. Anche in questo caso lui non vorrebbe farlo, non vorrebbe uccidere Alvaro, ma sa che lo farà ugualmente, perché deve farlo. È costretto a farlo. E tra l'altro, secondo Gaspare, è proprio Alvaro a fargli capire che deve farlo, esattamente come aveva fatto Francesca. La mattina del 21 marzo 1997 Alvaro e Chino sul tavolo intenta a compilare una schedina. Gaspare gli arriva alle spalle e utilizzando un martello colpisce con violenza l'uomo alla testa, uccidendolo sul colpo. Gaspare però questa volta non piange. È certo di aver fatto un buon lavoro ed è contento. A questo punto si lava, si cambia, lava il martello, esce dall'appartamento chiudendo a chiave la porta e butta i vestiti e martello in un bidone della spazzatura. Il 22 marzo la polizia entra nel locale di Via Le Monza e si trova di fronte a un altro giallo. Gaspare però è consapevole che ormai sono sulle sue tracce, mica è scemo. Eppure riesce ad uccidere ancora. La prossima vittima di Gaspare è un uomo con problemi di dipendenza, che tra l'altro conosce di vista, non sa neanche bene quale sia il suo nome. Forse si chiama Michele, forse Francesco. In realtà si chiama Vincenzo Zenzola, ha 43 anni e vive in una palazzina abbandonata dalle parti di Via Ripamonti, alla periferia sud di Milano. Gaspare lo incontra la sera di venerdì, dopo che ha ucciso Alvaro. Non sa dove andare a dormire, quindi segue Vincenzo nella palazzina dove ci sono delle coperte. Vincenzo in breve tempo crolla addormentato, Gaspare invece no. Resta sveglio e pensa. Pensa tanto, pensa quello che deve fare. Deve uccidere Vincenzo, lo deve fare. Ma decide di rimandare perché è troppo buio e ha paura di sbagliare. Non colpisce la sua vittima neanche di giorno quando Vincenzo si sveglia, perché è un uomo ben piazzato e ha paura di essere sopraffatto da lui. Dunque aspetta che Vincenzo si riaddormenti e in effetti dopo circa 15 minuti di chiacchiere l'uomo si assopisce di nuovo. Nonostante sia mattina, Gaspare a questo punto capisce che quello è il momento propizio e di nuovo si ripete, o adesso o mai più. Quindi afferra un martello che trova in casa e con un colpo solo fracassa il cranio di Vincenzo. Questa volta però il martello non lo butta via, ma lo tiene perché adesso non riesce più a fermarsi e deve proseguire con la sua missione, ossia uccidere ancora. Così si mette a girare per Milano con in mano un martello, ma non può colpire nessuno, c'è troppa gente in giro e non trova mai l'occasione giusta. Quindi vaga per la città senza meta fino alle due di notte. Decide quindi di rimandare il tutto al giorno seguente e va a dormire alla stazione centrale. La mattina dopo è domenica, Gaspare ha fame ma non ha soldi per mangiare. Chiaramente vuole procurarseli come fa di solito, ossia con una rapina. E a dirla tutta trova anche un complice, è un ragazzo di mestre, si chiama Sandro e ha 27 anni. Così Gaspare e Sandro puntano l'attenzione su una ragazza. È lei che decidono di rapinare. È sola e per di più sta passando in una zona isolata della stazione. Quando si trova davanti quei due tipi armati di una seringa che dicono infetta, la ragazza consegna loro tutto quello che ha nel portafoglio, ovvero 73 mila lire. Così Gaspare e Sandro la lasciano andare, contenti del loro bottino. Se non fosse che, quella non è una ragazza qualunque. Bensì è una giornalista e lei le notizie di quei giorni le conosce bene, ha visto sia l'identikit sia alcune foto uscite sui giornali, che raffigurano un uomo che viene ricercato come testimone chiave per due delitti e assomiglia parecchio a Gaspare. La ragazza finalmente corre al posto di polizia della stazione centrale a denunciare la rapina e sottolinea che uno dei due ragazzi è l'uomo che tutti stanno cercando. Sono le 13.30 quando due agenti della Polfer, ossia della polizia di stato ferroviaria, trovano Gaspare nei dintorni della stazione centrale e lo arrestano. Gaspare è alquanto tranquillo, anche perché all'inizio l'accusa con cui l'uomo finisce in manette è soltanto quella di rapina. Ma è chiaro che la polizia sta accumulando prove e indizi per i primi due omicidi. Ci sono impronte sul martello che Gaspare ha continuato a portarsi in giro e ci sono anche i vestiti sporchi di sangue che Gaspare sta indossando. In un certo senso è anche Gaspare a dare una mano a ricostruire il caso in quanto appena incontra il pubblico ministero il 23 marzo vuota il sacco. Gaspare parla, racconta tutto quello che ha fatto. Si autocondanna per l'omicidio di Francesca e di Alvaro, ma anche per il tentato omicidio della signora Genoveffa. Poi parla anche dell'omicidio di Vincenzo di cui ancora non si ha notizia. È lo stesso Gaspare a indicare una palazzina abbandonata in via Sibari, una traversa di via Ripamonti in cui si trova il corpo dell'uomo, è seminudo, sotto una coperta insanguinata. Gaspare ha commesso tre delitti, quasi quattro. Non è un assassino qualunque. Gaspare Zinnanti è un assassino seriale. Ebbene l'uomo quindi confessa tutto, è un fiume in piena, rivela parecchi particolari e non ha alcuna reticenza. Poi però cambia versione. Incontra il giudice per le indagini preliminari, Alessandro Rossato, e dice altre cose. Lo fa in modo sconnesso mettendo insieme fatti e circostanze che non hanno senso. Gaspare dice queste esatte parole. Io al giudice gli dico delle cose e lui scrive. Ma non ci sono prove perché nessuno mi ha visto fare niente. C'erano tutti gli indizi contro di me per quella donna, ossia Francesca, e quindi ho detto che sono stato io. Ma quando dalla perizia verranno fuori le impronte, che non sono le mie, allora lì dirò altre cose. La domanda a questo punto nasce spontanea. Se non è stato lui ad uccidere quelle tre persone, come poteva sapere della morte di Vincenzo considerando che è stato lui a farli trovare il corpo. Gaspare a questo punto aggiunge. C'è un motivo che adesso non voglio dire. Sapevo che Vincenzo Zenzola era morto, ma non voglio dire altro. Ci sono dei motivi che col tempo verranno fuori, per i quali all'altro giudice ho detto di averlo ucciso io. A lei invece dico la verità. So chi ha ucciso Vincenzo Zenzola, ma lo dirò solo dopo che avrò visto la perizia. Per adesso dico che non sono stato io, non sono stupido e voglio fare le cose per bene e con calma. È chiaro che come autodifesa non regge molto, ma Gaspare insiste e inizia a parlare di un'altra persona, ossia di una ragazza. Dice. Dopo aver fatto una passeggiata, sono tornato a casa con una ragazza che mi ha chiesto chi fosse Francesca Quelli e le ho detto che era la mia donna e ho capito che si era in gelosita moltissimo. La ragazza ha un nome francese. Quella ragazza col nome francese conosceva anche Alvaro. Infatti, continua a spiegare, ho fatto conoscere quella ragazza col nome francese ad Alvaro, il quale si è innamorato subito di lei. Gaspare a questo punto continua descrivendo quella ragazza. Era bionda, anche se non di colore platino. L'ho conosciuta alla stazione centrale circa un mese fa. La ragazza dormiva dove capitava, faceva la passeggiatrice per potersi permettere certe sostanze, ma io non volevo. Spesso la trovavo a dormire sopra le panchine. Alla fine Gaspare si ricorda anche il nome di questa ragazza, ossia Dolly. Ora Gaspare, dovresti spiegare come cavolo ti è uscito il nome Dolly, voglio dire dove lo senti il francese? Boh. Gaspare comunque dice che è questa Dolly ad aver ucciso tutte e tre le vittime per vendetta e gelosia nei suoi confronti. Chiaramente non ci crede nessuno. Gaspare però continua a raccontare tante cose diverse, tutte contraddittorie e sconnesse. Poi inizia a dire cose ancora più strane, ossia io a loro volevo bene, non li odiavo, non volevo che soffrissero. La vita è triste, fatta di tanti passaggi. Si deve passare da uno stadio all'altro. Io volevo solo far del bene. Sono frasi strane queste, difficili da capire. Per questo, appena Gaspare finisce a San Vittore, lo psichiatra del carcere ordina per lui una sorveglianza vista e gli prescrive una terapia a base di psicofarmaci. Il 3 aprile i sostituti procuratori Laura Cirati e Rosario Spina, che si occupano del caso, chiedono aiuto al professor Gianluigi Ponti, docente di psicopatologia forense e criminologia all'Università di Milano affinché inquadri meglio la situazione. Il professor Ponti e i suoi collaboratori incontrano Gaspare in tre colloqui diversi col fine di fare una perizia psichiatrica. Peccato che ogni volta sembra quasi che incontrino una persona diversa. Il 5 aprile Gaspare è garbato, gentile, rispettoso e ben educato. Inoltre ha l'aspetto di un giovane per bene che quindi suscita stupore. Rimane calmo nel momento in cui narra i truculenti omicidi che ha commesso. È disponibilissimo a parlare di sé e di tutto quello che ha fatto, sia con i magistrati sia con il professor Ponti. Ogni tanto ride, più precisamente si lascia andare ad una risatina intermittente che il professore definisce un risolino fatuo che a volte diventa una risata spiegata quasi sempre a sproposito. Non c'è molto da ridere in quello che racconta Gaspare, anche se lo fa con grande naturalezza. Il professor Ponti scrive, sotto il profilo affettivo egli mostra una sorta di indifferenza per quello che ha fatto, come se massacrare tre persone in un modo tanto violento e aver cercato di ucciderne una quarta gettandola sotto la metropolitana fossero le cose più naturali del mondo che non suscitano in lui nessuna reazione emotiva. Nel secondo colloquio che si tiene il 7 aprile l'atteggiamento di Gaspare cambia nuovamente. È arrabbiato perché è ancora in prigione. L'uomo dice, ma come? Ho fatto del bene e mi ripagano col male? Continua a ridacchiare ogni tanto, ma è arrabbiato col mondo. Tutta la gente che ha ucciso Gaspare l'ha ammazzata a fin di bene e dovrebbe addirittura essere premiato. Ed è a questo punto che lo spiega chiaramente. Dice di aver ucciso quelle persone per far loro del bene, perché la morte è buio, ma poi viene la luce. Ha una missione da compiere, dice, ossia salvare l'umanità. Non è di certo una missione che si è inventato da solo, così dal nulla. Gli è stata comandata. Gli è stato ordinato da Gesù Cristo in persona. Punire gli uomini per salvarli, uccidendoli. Gaspare non è molto chiaro. Delira, si contraddice, si interrompe e ridacchia in continuazione. Dice che è stato Gesù a ordinargli di uccidere. Ma no, non è vero, non è stato Gesù, perché lui stesso è Gesù. Gaspare è il figlio di Dio che deve giudicare tutti gli uomini. Il professor Ponti scrive, con l'incoerenza che è tipica di chi vive una così intensa condizione psicotica nel suo delirio mistico, salvifico e di grandezza, finisce per poi affermare che deve ammazzare anche Dio e lo Spirito Santo. Anche in questo caso Gaspare è un fiume in piena perché nonostante sia arrabbiato vuole dimostrare che stava solo facendo del bene. Gaspare continua dicendo che doveva castigare la gente e sapeva di questo compito già da qualche anno. Ma è solo da due o tre mesi che sente nell'aria delle voci e delle presenze come se il Signore gli chiedesse aiuto tramite il crocifisso che gli diceva ho bisogno di te, vieni mi incontro. Gaspare a questo punto si ferma un attimo e poi aggiunge, era una cosa strana, sentivo la presenza di Gesù ma erano tre Gesù e perciò ho dovuto uccidere tre persone. È chiaro che Gaspare sta delirando ma questo non è il delirio di un mitomane bensì è il delirio di un assassino che ha ucciso tre persone, quasi quattro, e avrebbe ucciso ancora. Il professore scrive, essendo l'illogicità una costante del suo pensiero, nonostante avesse compiuto la missione facendo tre vittime, afferma poi che avrebbe dovuto ucciderne altre tre. Infatti dopo l'omicidio di Vincenzo Zenzola tenne con sé il martello del quale si sbarazzò solo più tardi. Gaspare uccide ma non per motivi intimi. Le questioni intime qua non centrano assolutamente in nulla e lo sottolinea anche il professor Ponti. Non è un sadico perverso che ha ucciso per il piacere personale, intimo che la sofferenza della vittima gli assicurava. Le relazioni che Gaspare aveva con Francesca e Alvaro non hanno nessun peso nella decisione di ucciderli. L'uomo quando parla del rapporto che aveva con le vittime ridacchia così come quando racconta del periodo in cui si prostituiva. Gli ha uccisi perché doveva farlo, se ne erano accorti anche loro. Anzi, gliel'avevano proprio chiesto. E Dolly, quella ragazza dal nome francese che avrebbe ucciso tutta quella gente per gelosia nei suoi confronti? Beh, in realtà Dolly non c'entra, anzi, non esiste neanche e mai è esistita. Se l'è inventata lui e, mentre lo dice, continua a ridacchiare. All'ultimo incontro con gli psichiatri, il terzo che avviene il 10 aprile, l'atteggiamento di Gaspare è cambiato ancora. Adesso è furioso perché lui in prigione non ci vuole proprio stare. Non hanno neanche il diritto di tenercelo dopo tutte le buone azioni che ha fatto perché ha fatto semplicemente il bene delle sue vittime e la volontà di Dio. Non possono bloccare così la sua missione come si permettono. Quindi in pratica se lo lasciano andare farà una strage perché la sua missione è quella. Uccidere tutti per salvarli in nome di Dio. Gaspare dice tranquillamente che scapperà dalla prigione e non sarà difficile per lui perché tanto ha una forza invincibile, un'immensa forza che gli permette di fare tutto ciò che vuole. Scapperà, farà una strage e nessuno avrà scampo fino alla fine dell'universo. Perché anche se dovessero ucciderlo, lui resusciterà. Gaspare vuole uccidere tutti gli abitanti del mondo. E aggiunge, perché mi hanno dato il male per il bene che ho fatto? Sono troppo arrabbiato. Se avessi una pistola o un mitra, continuerai ad uccidere. Ha un piano tutto suo per scappare. Gaspare dice ridacchiando, anche se mi dessero tre ergassoli, io non li farò perché mi ammazzo. Prenderò la rincorsa, sbatterò la testa contro il muro, così andrò nella luce. Il professor Ponti e i suoi colleghi, con lo specialista in test mentali, esaminano Gaspare accuratamente. Il loro risponso è molto chiaro. Si tratta di una forma di schizofrenia acuta, caratterizzata dalla presenza di deliri bizzari e confusi di vario contenuto, sia religioso, salvifico, di grandiosità e di distruzione, che comportano nel paziente il convincimento di essere stato investito per volontà divina dal compito di uccidere le vittime per la loro salvezza. Ma non è finita qui, perché ci sono anche delle allucinazioni uditive e visive. Gaspare sente di continuo il crocifisso che gli parla. Gaspare vede oggetti indefiniti che fluttuano nell'aria. Vede Gesù, poi vede ben tre Gesù, vede anche lo Spirito Santo. Il professor Ponti continua dicendo, Gaspare Zinnati è uno schizofrenico che ha manifestato la malattia all'improvviso, come dimostra il fatto che, fino a quel momento, ha condotto una vita quasi normale, facendo senza problemi il servizio militare, spostandosi, trovando e compiendo lavori. Venendo alla valutazione psichiatrico forense, scrive il professor Ponti, la gravità della sintomatologia è di tale rilievo che deve necessariamente comportare il giudizio di totale assenza di capacità di intendere di volere al momento dei delitti. Qualche perplessità suscita invece il giudizio sulla capacità processuale. Da un lato, Gaspare Zinnanti, nonostante le cure praticate in carcere, la psicosi di cui affetto, vede ridotta la sua capacità di partecipare coscientemente al processo. D'altra parte sa bene chi è, dove si trova e di cosa è chiamato a rispondere, ed è pure in grado in qualche modo di difendersi col dichiararsi innocente o con l'insinuare ipotesi che sia un altro l'omicida. Quindi forse, proseguendo con le cure, aumenteranno le sue capacità di partecipare a un processo. Sulla pericolosità non c'è alcun dubbio, è elevatissima e attuale sia nei confronti del prossimo che di sé medesimo. Si sono già prima sottolineati i propositi di stragi che egli va progettando per vendicarsi di essere stato messo in carcere nonostante il bene che ha fatto alle vittime uccidendole. A ciò deve aggiungersi che il rilevantissimo rancore per essere stato imprigionato è alimentato anche dal convincimento di essere colui che gli uomini non possono giudicare, essendo Dio in persona. In ogni momento, e del tutto imprevedibilmente, egli può mettere in atto il proposito apertamente dichiarato di uccidere chiunque gli capiti a tiro. Quindi Gaspare è pericoloso, appena ne avrà la possibilità ammazzerà subito qualcun altro oppure si suiciderà. È necessario internarlo immediatamente in un ospedale psichiatrico giudiziario, insomma. La disposizione dei giudici è non meno di dieci anni da trascorrere in un manicomio criminale e, dopo sei anni, ci sarà una nuova valutazione psichiatrica per stabilire se Gaspare sia migliorato o sia ancora in preda a deliri e allucinazioni. Viene mandato in provincia di Reggio Emilia nella nuova struttura aperta nel 1991 per sostituire il vecchio manicomio criminale. Gaspare, in una delle celle di quell'ospedale psichiatrico, combatte con i suoi deliri, con la sua disperazione. Una disperazione che mai potremo sapere come abbia vinto. In realtà non è mai riuscito a farlo. A luglio del 2001 gli agenti di custodia trovano Gaspare zinnanti, senza vita, impiccato alle sbarre della sua cella. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate la storia di questo uomo e questo caso. Mi ha davvero incuriosita. Più leggevo cose di lui, più volevo sapere. Diciamo così. Quindi sono davvero curiosa di capire se conoscevate questo caso, ma soprattutto sono curiosa di sapere la vostra opinione come al solito, come sempre, insomma. Ci vediamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!